big zombie oh 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 lo zombie mio è andato da vasso dietro e l'ho ucciso ciao a tutti ragazzi benvenuti in questo nuovissimo minigame oggi siamo sulle pokebattle nelle skywars ovvero avremo a disposizione di nostri pokemon da poter fruttare per attaccare altre gente nelle skywars siamo insieme a Alex bella a tutti ragazzuoli ok e ci proviamo in realtà solo che sarà un po' complicato perché ora vi spiego come funziona allora la roba alle skywars ok sostanzialmente recuperate la roba siete delle persone normali che giocano alle skywars il problema è che potete anche catturare i pokemon che più che problema è una cosa vantaggiosa ma che i pokemon sono tipo dei mob e tipo catturandoli tipo avete vantaggio perché potete buttarli verso le persone tipo Alex per esempio no perché mi devi chillare ok vedete ragazzi qui c'è un ragno noi lo possiamo colpire levargli un po' di cuore poi li buttiamo la pokeball se riusciamo e lo catturiamo in qualche modo mortacci del ghast tu hai dato il ghast? porca va che non trovo niente oh ma vedete è un po' anche più difficile fare entrare i pokemon dentro perché non entra ma entra sto ragno di merda non entra mica ah ma ragno è venenoso porca merda no un ghast no 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 la strega la strega la strega la strega la strega la strega no 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 strega strega due streghe per no merda le ho finite perfetto niente le ho finite le ho finite però ho catturato un pokemon ho catturato perfetto oh no no ma porca merda porca merda perché ci sono troppi devo uscire devo uscire da sta cosa ok ok allora Alex ha un problema ho catturato ho preso il ragno velenoso io ho preso ah pezzo di merda in qualche modo devo lanciarlo lì devo lanciarlo oh oh cosa mi ha preso t'ho visto t'ho visto no è caduto il mio pokemon no è morto è morto il mio no non t'ho ucciso io giù giri in giurello che non sono stato io è stato un altro ho buttato qualcosa ho buttato oddio c'è no c'è un ghast un ghast porca merda quello è un ghast vai 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 non ho niente per catturarlo qual è il problema come lo catturo eh eh ah faccio così però se arrivi fino a là ci sono delle delle pokemon si lo so però devo uscire a catturarlo aspetta aspetta se salto un pochetto forse non mi becca pezzo di merda mi becchi no non mi becchi ok occhio occhio giù 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 pendile ok pezzo di merda ah non è un ghast perché davvero si può essere un ghast vediamo se lo catturo vediamo se lo catturo più che altro non manca Yuki solamente porca merda perché non entrano entra pokemon ah eccolo qua catturato perfetto ho preso ah lo zombie era non è nemmeno il ghast perfetto meglio è uno zombie ok lui mi sa che in casa sua lo sai lì dici di fronte può essere anche io vi sto sparando è dentro campera eh posso catturare i pokemon uh un arco ha un per cento di vita ha un per cento di vita si aspetta se li buttano zombie oddio no è perso un pokemon stupida strega no è perso un pokemon è un apparso eh l'ho ucciso vabbè l'ho ucciso e trovi un piccone puoi rompere qualcosa pezzo di merda mi ha attaccato lo sai a te si ho visto qualcosa mi ha attaccato vai zombie guarda guarda le ho buttato lo zombie le ho buttato lo zombie le ho buttato ma non riescono a beccarlo tutti sti po lo stanno massacrando lo stanno massacrando ma nessuno ci arriva aspetta aspetta se vorrò un attimo vedere se trovo qualcosa qui dentro magari in caso eh io c'ho anche la me la adoro quindi lo faremo attenzione perché dovrei riusci a shottarlo mi credo ho paura che mi attacchino mi attacca il blaze lo sai c'è il blaze hai vogliato quello un blaze non è un gastro lo sai ah cattiveria uccidi vittoria vittoria gg ok ne facciamo un altro però ragazzi ok ragazzi ci diciamo seconda partita allora vediamo un po abbiamo giusto le altre cose solite per far cose tanto non prendere troppi danni prendiste pokeball stavolta fate bene ce la posso fare ce la posso fare ok vediamo un po che c'è qua è un po' di un po' di roba da mangiare più che altro sai no non me le prende allora proviamo a catturare qualcuno vediamo che pokeball possiamo catturare perché lo sto catturando sto cercando di catturarlo in qualche modo non ho la spada si c'ho la spada però è un po' merdosa ok io no io no non ho neanche la spadina dai entra oh un ghast no c'è un uno zombie vieni qua entra ok vediamo un po' se entra oh ne ho catturato uno no no non ho catturato niente ho catturato lo zombie quello è un ghast un semi ghast sì è un ghast dai entra entra bello entra ah porca va lo sai che non entra ho buttato di tutto l'ho buttato non è ah eccolo qua che cos'è è un blaze quello che ho preso perfetto merda l'ho buttato il blaze l'ho buttato il blaze l'ho buttato picchia picchia oh oh sta morendo sta morendo oh no dai oh lol lol ma cosa è successo è un piccolo lag credo sia stato sai piccolo lag sono riuscito a fare dei danni enormi oh merda pezzo di merda zombie ah zombie di merda ok ho ucciso oh merda il ghast mio mi attacca pezzo di merda che schifo che sfiga ah dai cosa mi l'ha no la pozione ma dai mi è arrivata la pozione ma sei stupida strega no merda eh porcazza sai cos'è mi ha fatto un sacco di male quella cosa no 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 in dritta in testa me l'ha buttata eh va bene va bene proviamo a fare un altro che dici vai ok terza partita e ultima anche vediamo un attimo stavolta di trovare qualcosa di decento soprattutto speriamo che la strega non venga da me ogni volta sai che è uno sbattimento con la strega ma ogni volta ce l'ha con te la strega oh merda schifo mi sono usciti due pokemon mi sono usciti però uno l'ho ucciso l'altro è un ragno velenoso dei piccoli slime che non mi servono a niente non mi servono zombie merda ok cadi di hp 2 hp perfetto vediamo se facciamo a catturarlo dai mi serve lo zombie mi serve dai zombie ok nice preso lo zombie ho preso dai oh oh spunto la strega di nuovo ma dai strega di merda di nuovo di nuovo devi morire stavolta devi morire stavolta ok l'ho uccisa l'ho uccisa dettagli mi ha buttato due volte il veleno è assurdo oh yeah l'ho catturato catturato il primo pokemon che catturi buono buono voglio avere oh vieni Pablo vieni allora sto provando un attimo a passare vediamo un attimo se ce la faccio ma non sono sicuro perché potrebbero sfruttarmi un momento l'altro ok spero di non farmi beccare in qualche modo catturati c'è un hp non si può non catturare c'è vas c'è vas c'è vas c'è vas e l'ho buttato la strega vas vas pigliati la strega ma è caduta c'ho anche il pig zombie oh 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 lo zombie mio è andato da vas dietro e l'ho ucciso cattiveria cattiveria no merda non ho fatto cadere quello perfetto aspetta che sto recuperando un po' di roba delle ceste una spada finalmente che diamine prendo le pokeball così ci provo a fare dei danni no tu sei al centro ok allora vieni da me vieni da me vai tu contro di lui dov'è qua qua pezzo di merda di blaze no madonna ti stavo per colpire tipo mi fa male madonna c'è il blaze c'è il blaze riesce a usare quel blaze di merda non so come shottarlo eh con con l'arco presumo se lo trovi eh non c'è ok staff k no si staff k certo c'è staff k staff k aspetta si si l'ha visto dici aspetta vai vai oh yeah che le hai buttato il blaze oh oddio l'ho ucciso io come l'ho ucciso come l'ho ucciso io ho lanciato il pokemon il pokemon gg tanta roba grande va bene ragazzi noi ci vediamo presto col nuovo video facciate sapere nei commenti se vi piacciono questa modalità se volete altri video insieme a Alex mi raccomando trovate il suo link qui sotto nei commenti da Ulisse e da Xcrumbles è tutto ci vediamo nel prossimo video ciao ragazzi ciao ciao ciao